Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Cominciamo con la sanità per quanto riguarda soprattutto la nuova disciplina che regolamenta gli istituti di cura a carattere scientifico in Toscana come il pediatrico Meyer di Firenze. Via libera da parte della Consiglia regionale alla nuova disciplina sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. L'Aula ha approvato la proposta di legge presentata a ottobre 2022 dalla Giunta che adegua il precedente provvedimento toscano sul servizio sanitario regionale. Si tratta dell'ultimo tassello mancante per poter adeguare lo statuto dell'ospedale pediatrico Fiorentino Meyer che dopo il riconoscimento da parte del Ministero della Salute lo scorso agosto è diventato istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Per il Meyer e il sistema sanitario regionale i benefici sono innumerevoli soprattutto sul fronte della ricerca. Si potrà infatti accedere a finanziamenti nazionali ed europei che andranno ad aggiungersi a quelli regionali permettendo un ulteriore sviluppo delle attività. Inoltre con le nuove modifiche sarà introdotto un consiglio di indirizzo di cinque membri nominati dalla Presidente della Regione di cui tre individuati dallo stesso uno su proposta dell'Università e due disegnati dal Ministero e di un direttore scientifico nominato dalla Ministero della Salute sentito il parere del Governatore toscano. La nomina della Direttore Generale invece spetterà ancora al Presidente della Regione dopo aver sentito il Ministero della Salute ed intesa con il Rettore dell'Università confermata anche la presenza di un direttore amministrativo e di un direttore sanitario scelti secondo la legislazione già vigente. Con questa legge andiamo a modificare la legge 40 del 2005 introducendo nell'ordinamento toscano la figura degli IRCS degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico cioè la possibilità di svolgere attività di ricerca integrata in maniera forte con l'attività di cura. Lo facciamo dopo che il Meyer ha avviato un percorso importante che ha avuto un riconoscimento agosto scorso e che gli permetterà quindi di trasformarsi in maniera definitiva in azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCS e questo sarà il nome del Meyer, l'abbiamo deliberato ora nella Giunta. Nella sostanza andiamo a ridisciplinare tutto il funzionamento di questa tipologia di istituti, come si fa a nominare il Direttore Generale, ci sono figure nuove, il Direttore Scientifico, il Collegio di Garanzia, insomma tutta una serie di figure che permetteranno di svolgere questa attività con più attività e con più forza scientifica con un coinvolgimento del Ministero della Salute perché ovviamente con questi passaggi chi ottiene la trasformazione in IRCS diventa parte integrante della rete della ricerca nazionale e internazionale. Quindi intanto per il Meyer un grande passaggio avanti ma pensiamo che la Toscana non si debba limitare solo al riconoscimento del Meyer è in corso il riconoscimento anche per la Fondazione Monasterio di Pisa tant'è che abbiamo introdotto un articolo specifico per la Fondazione di Natura Pubblica che permetterà qualora anche per la Monasterio questo percorso si concludesse positivamente di poter senza modificare la legge andare a riconoscere le figure e adeguare lo statuto e il funzionamento della macchina in modo tale che ci sia il riconoscimento di IRCS insomma un passaggio importante per la ricerca e un passaggio importante per il rafforzamento del sistema sanitario regionale. Questa legge praticamente introduce nel sistema toscano per quanto riguarda gli istituti di ricerca per capirsi il Meyer di ricovero e ricerca un modello organizzativo assolutamente differente che segna a nostro giudizio finalmente una netta discontinuità con il passato ovvero superiamo l'epoca almeno in questi istituti dell'uomo solo al comando del Presidente della Regione che in maniera discrezionale in maniera quasi arbitraria sceglie i direttori generali delle aziende i quali delle aziende sanitarie i quali poi a cascata scelgono i propri collaboratori. Qui viene introdotto un principio per il quale invece il Presidente della Giunta regionale faccia determinate scelte sentendo anche il Ministero della Salute viene introdotto un collegio di indirizzo che noi riteniamo essere una cosa normale opportuna, necessaria in aziende che governano e gestiscono miliardi di euro e si occupano di milioni di persone introduce la figura del direttore scientifico che noi riterremmo essere opportuna anche nelle aziende ospedaliere universitarie. Noi riteniamo che si debba appunto superare il modello organizzativo dell'attuale ASL riteniamo che questo modello organizzativo che viene introdotto in Toscana per recepire la normativa nazionale non per moto proprio della Regione Toscana sarebbe molto utile e opportuno che venisse mutuato che venisse utilizzato anche nelle aziende sanitarie toscane che siano le aziende territoriali o che siano le aziende universitarie. Insomma pensiamo che si debba superare l'organismo monocratico del direttore generale che viene scelto da una persona sola dal Presidente della Regione si debba trovare una collegialità differente in sanità nel Governo della Sanità dove merito, trasparenza, competenza siano più importanti dell'appartenenza politica. E restiamo in tema di sanità con il Consiglio regionale che ha promosso in queste ore anche un'iniziativa per le donazioni di sangue vista la carenza dell'ultimo periodo. La Toscana non è ancora autosufficiente per soddisfare il fabbisogno di sangue nel nostro territorio si è verificato un calo di donazioni soltanto nel 2022 si è registrato il 4,1% in meno rispetto all'anno precedente in questo arco di tempo ci sono state 62.000 donazioni garantite da 40.000 persone. Tutto il territorio nazionale ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana. Quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso siamo cercati di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori che quello che manca sono nuovi donatori. Fratres e il Consiglio regionale lanciano una campagna per sensibilizzare nuovi donatori in modo che garantiscano dosi maggiori di sangue e un turnover con coloro che l'hanno sempre donato e che stanno avanzando in termini di età. L'iniziativa prevede sacchetti di carta per le medicine usate dalle farmacie che promuovono le donazioni. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte così i suoi cittadini credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Spazio anche ai temi economici trattati dall'Assemblea Toscana in particolare il settore florovivaistico con un'interrogazione che ha visto la risposta in aula dell'assessore all'agricoltura della Toscana Stefania Saccardi. L'alto valore della produzione della comparto fiori in Toscana che ammonta 49 milioni di euro attestandosi tra i più alti d'Italia e contribuendo insieme al vivaismo al 30% del pila agricolo regionale ha portato i consiglieri della Lega Elena Meini e Massimiliano Baldini a presentare un'interrogazione in consiglio regionale chiedendo alla Giunta quali azioni intenda intraprendere per sostenere il mercato florovivaistico Toscano nell'aula dell'Assemblea Legislativa Toscana ha risposto l'assessore regionale all'agricoltura Stefania Saccardi che definendo l'interrogazione precisa e corredata da dati incontrovertibili ha chiarito che il sostegno al comparto è al centro dell'impegno dell'assessorato sia attraverso il piano di sviluppo rurale che attraverso i progetti integrati di filiera e gli interventi mirati all'innovazione grazie al supporto fattivo della regione ha sottolineato l'assessore le aziende stanno intraprendendo un percorso virtuoso e sono elemento decisivo per la crescita dell'intero territorio abbiamo rilanciato due temi che stanno particolarmente a cuore ai rappresentanti del settore uno è la tutela ovviamente del prodotto nazionale del prodotto italiano in particolar modo noi in Toscana perché quel prodotto non è solo un prodotto di qualità ma è anche un prodotto che garantisce il rispetto di normative vincolistiche fra le più rigide quelle italiane che sono anche protezione di utilizzo di concimi in qualche modo assolutamente regolari e nello stesso tempo anche garanzia del rispetto delle normative che riguardano la mano d'opera e dall'altro anche la necessità di prevedere un rispetto di reciprocità per chi intende inserire nel mercato italiano un proprio prodotto dall'estero che deve evidentemente rispettare anch'esso le normative che devono rispettare gli imprenditori e chi opera nell'ambito italiano in modo che non ci siano come dire sbilanciamenti e favoritismi indiretti da questo punto di vista chiudiamo con la polizia locale perché cambia la normativa regionale che riguarda la formazione della polizia municipale in Toscana e non solo cambia la normativa sulla formazione della polizia locale in Toscana con l'approvazione a maggioranza in consiglio regionale della nuova legge in materia come disposto dal testo la fondazione scuola interregionale di polizia locale con sede a Modena perde l'esclusiva consentendo di avvalersi in modo plurale delle realtà operanti in questo settore delle politiche pubbliche regionali ad illustrare l'atto in aula il presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani una prima legge che era stata presentata nella prima commissione prevedeva il recesso della regione toscana dalla fondazione interregionale per la formazione della polizia municipale di Modena nella prima commissione si sono tenute una serie di audizioni le quali hanno manifestato il disagio rispetto al venir meno della partecipazione della regione toscana a questa fondazione che ha lo scopo di curare la formazione della polizia municipale per questo motivo è stata presentata una nuova proposta di legge oggi approvata dal consiglio regionale nel quale si esclude che ci possa essere il recesso da parte della regione toscana rispetto alla fondazione ma si prevede che la formazione della polizia locale possa avvenire attraverso differenti canali tra cui anche la fondazione interregionale di Modena pertanto si passa da un regime che è quello attuale di esclusività nella formazione ad opera di questa fondazione a un regime diverso che prevede il ricorso a differenziati strumenti di formazione tra cui anche quello della scuola di formazione di Modena ogni anno la giunta prevede quali siano le priorità della formazione stanzi alle relative risorse e i comuni nella misura in cui si avvalgano della formazione ottenuta e richieste ottenuta dalla regione toscana comparteciperanno agli oneri in misura non superiore al 20% ad oggi gli agenti di polizia municipale della Toscana dell'Emilia Romagna e della Liguria vengono formati in un'unica scuola che ha sede a Modena oggi la regione toscana ha approvato una legge che non obbliga più la regione toscana a servirsi di questa scuola di formazione e su questa proposta di legge Fratelli d'Italia si è astenuta perché si è astenuta perché secondo noi mancava il secondo pezzo perché mancava il pezzo in cui dicevamo che non ci servivamo più della scuola di Modena perché ne facevamo una in Toscana e invece a quello che abbiamo capito dal presidente Gianni ancora nonostante la direzione vuole essere questa ancora la Toscana non è pronta ad avere una sua scuola noi crediamo invece che questa sia la soluzione cioè non più una scuola interregionale ma una scuola toscana questo per almeno quattro motivi il primo i fondi che arrivano dal governo per la formazione di agenti di polizia municipale restano in Toscana e non vengono girati come accade ad oggi pari pari ad altre regioni due i formatori e gli istruttori gran parte dei formatori la stragrande maggioranza dei formatori e degli istruttori che oggi lavorano nella scuola di Modena sono toscani quindi potremmo utilizzare il nostro know-how in casa nostra terza una scuola di formazione toscana può dare un'uniformità di formazione migliore che non una scuola che forma agenti provenienti da tre regioni differenti quarta e ultimo punto perché così ci possiamo concentrare a formare gli agenti di polizia municipale sui temi che sono più caldi in Toscana questi dunque erano tutti i principali temi trattati dall'Assemblea Toscana nel corso delle ultime sedute per quanto riguarda la voce del Consiglio l'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana sempre su RTV 38 grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci